fruio zero grassi e ricco di proteine così denso cremoso e incredibilmente goloso che un cucchiaino tira l'altro e l'altro e l'altro e l'altro fruio bene buono vis commissario maigret polizia giudiziaria dalla fantasia di george simenon su top crime l'ho riconosciuta subito prego il commissario maigret qui siamo abituati a vedere delle celebri ma lei è un'altra cosa maigret stasera in prima serata top crime scopri la nuova collezione pandora essenz pandora quando hai bisogno della giusta carica per affrontare al massimo la giornata prova special k protein un gustoso mix di cocco cacao anacardi e con il 23 per cento di proteine special k riparti con gusto la soluzione più efficace contro le macchie nivea luminos siero avanzato contiene il più efficace ingredienti antimacchie e l'abbiamo dimostrato testandolo contro i più comuni ingredienti antimacchie la sua efficacia è clinicamente provata oltre 10 milioni di donne lo hanno già scelto nivea luminos vedi tu stessa i risultati da euro spin il 7 e l'otto giugno con almeno 35 euro di spesa avrà in omaggio una pratica borsa da viaggio ripiegabile da 30 litri info su euro spin punto la spesa intelligente ok ho pochi secondi per convincerti a passare a ora copriamo il 98 per cento del territorio c'è anche il 5g fai tutto con l'app siamo già 3 milioni di sim chi sceglie o mobile a tutto da 6 euro e 99 al mese chiedi a chi ce l'ho feel the magic of science on your skin nuovi fotoprotettori fusion water magic texture ultraleggera per ogni tipologia di pelle voyage privé il tuo viaggio inizia qui io ne ho girati tanti di hotel ma con delle camere che cambiano panorama così questa è la vera vacanza ti preoccupano le tue macchie digli addio nuova routine antimacchie di garnier potenziata dalla vitamina c step 1 il nostro siero concentrato riduce le macchie del 43 per cento step 2 fluido anti uv una protezione solare molto alta per prevenire i danni uv addio macchie ogni giorno nuova routine vitamina c da garnier risolvere i casi più difficili è molto più complicato quando in gioco c'è tutta la tua vita il lavoro è più importante della tua famiglia e te è più importante in italy da quando avevate una relazione era la mia informatrice rispondi fbi most wanted seconda stagione scusa martedì in prima serata top crime nuovi casi interveniamo adesso polizia di chicago per il sergente volt e la sua squadra andrò dritto per la mia strada c'è il rischio che qualcuno si faccia male adam chicago pd ottava stagione deve smettere di sentirsi intoccabile venerdì in prima serata top crime questo programma può nuocere ai minori se vuoi impedirne la visione ricordati di attivare il dispositivo di blocco attraverso le impostazioni del decoder per il solitore non ma veramente senza